Il calcio di Mazzariolo, oltre la metà al campo, Villagra controlla, palla fuori, palla il giocatore a mano per Barton, da questa e ancora per Vaccarua, calcio alto di Vaccarua al limite dei 22 avversari, Patelli, anzi Mazzariolo va a commettere in avanti, Lunardi con due un istante, Giacci avanza ancora, lui non ha male, va in mezzo ai pali, scaccia in meta, terza meta per i Cavalieri, a segno Marco Giacci al posto.